Buongiorno, buongiorno a tutti. Allora vi invito ad iscrivervi al canale, a far iscrivere. Mi raccomando, fate iscrivere tutti i calciofili che conoscete e che continuiamo a crescere. E quest'oggi parliamo di una questione che sta tenendo banco, insomma, un po' dappertutto. TV, canali, dibattiti, assalti all'arma bianca, offese, feci. E potevo io esimermi dal dire la mia? Potevo esimermi dal dibattito sulla questione Mertens Inter Napoli? No, anche se non è, vi dico, una questione che mi eccita in particolar modo, perché l'avrei comunque trovata un'operazione di calciomercato abbastanza bagatellare. Vi ricorderete tra l'altro che forse sono stato, se non il primo, uno tra i primi, ad affiancare la figura di Mertens all'Inter circa due anni fa, quando in vista di una possibile sostituzione di Spalletti, io come il buon Moratti, ok, proposi Sarri e l'arrivo di Mertens dal Napoli per l'Inter. Vi ricorderete quel video nostalgico? Anche Moratti propose Sarri. Una volta lo fermarono per strada, come il suo solito, grandissimo, lui lo intervistavano sempre per strada, grande Moratti, e gli hanno chiesto che allenatore vorrebbe tra Conte e Spalletti, mi pare, all'epoca, lui disse Sarri, grande risposta nostra, terza via, terza via sarriana, grande press, Moratti. Vabbè, a parte queste cose bagatellari, veniamo alla questione in sé, iniziamo a sentenziare. Vi dico la mia sulla trattativa. Io penso che Mertens volesse rimanere al Napoli, voglia rimanere al Napoli, e che il Napoli voglia far rimanere Mertens. Mertens è un simbolo di quella squadra che proprio con Sarri arrivò ad un passo dallo scudetto, è molto amato a Napoli, è inutile che ve lo dica io, si vede, si sa, è una cosa risaputa, è un giocatore simbolico e viene chiamato Ciro, insomma suscita l'amore e le simpatie di tutti i tifosi napolitensi e credo che anche a lui vada bene, complice anche l'età, magari non finire la carriera a Napoli, ma comunque avere il suo buon ritiro ben stipendiato in una piazza che lo ama, dove ha fatto bene e dove può comunque essere ancora utile. Mi avrebbe intrigato comunque, devo essere onesto, un Mertens al posto di Sanchez nel 3-5-2 Contiano, un po' un giocatore capace di spaccare le partite, di spaccarsi in mano le partite. Sarebbe stata una cosa anche interessante da valutare, tecnicamente mi sarebbe piaciuto, vi lancio un paradosso, forse sarebbe servito di più Mertens a Conte come nuovo Sanchez rispetto a Mertens a Gattuso, anche seppure per esempio con il Barcellona assegnato. Quindi tecnicamente lo sponsalizio a livello tecnico-tattico, lo sponsalizio Mertens Inter, sarebbe anche stata una cosa interessante, non vi dico di no, però alla base bisognava contare, bisogna contare il fatto che lui vuole restare a Napoli, che lui ha fatto una carriera a Napoli, che lui è amato a Napoli, e credo che il suo obiettivo sia e fosse alla fine quello di rimanere al Napoli, quello di rimanere al Napoli, anche perché ha un'età in cui fare quello che comunque può essere un salto nel vuoto, un salto nel buio, cioè quello di andare a giocare all'Inter, è una cosa che uno o due conti se le fa, insomma Mertens non è più un ragazzino, non è uno che deve dimostrare o che è stato mandato via e che deve rilanciarsi, Mertens è un po' la chiesa nel villaggio al Napoli, quindi ci può stare tranquillamente, e quindi penso questo, penso che alla base ci sia questo tipo di sostrato. Credo che l'Inter possa essersi inserita in questa fase di rinnovo, un po' perché il giocatore interessava, e anche un po', perdonatemi il termine volgare, che magari l'ho utilizzato in altri contesti, ma un po' anche per far sentire la presenza a un suo competitor, perché come dicono i Bagliazzi, il Napoli di oggi è un competitor dell'Inter, sono due squadre simili per obiettivi, per piazzamenti, per possibili posizionamenti in campionato, insomma, quindi ci può anche star come operazione quella che Marotta dice, il giocatore può interessare, vado un attimo a mettere il pepino al sedere ad una società concorrente, che male non fa, e vado ad inserirmi nella trattativa. Io questo ci credo, ma credo anche che si sapesse della difficoltà di questa stessa trattativa, proprio perché il giocatore voleva rimanere al Napoli. Infatti nella live di domenica, per la prima volta mi è stato chiesto cosa sarebbe successo, secondo me, con il rinnovo di Mertens, e io vi dissi, secondo me Mertens rinnoverà col Napoli, e credo che questa sia la situazione, insomma, penso che Mertens rinnoverà col Napoli. C'è anche una voce che è girata sul fatto che Mertens abbia potuto utilizzare l'Inter come una sorta di ricatto, passatemi il termine, per ottenere uno stipendio più alto da De Laurentiis, no? E che quindi abbia usato l'Inter a sti scopi, lui col suo procuratore e via dicendo. Allora, io non credo tanto a questa questione, nel senso che non ci vedo un disegno intelligente, cioè non credo che Mertens e il suo procuratore abbiano intavolato un affare con l'Inter arrivando a un passo della firma per spingere De Laurentiis ad aumentargli il contratto. Non ci credo molto e se è successo, è successo solo a livello indiretto. Nel senso che, vedendo i problemi che potevano esserci nel rinnovo, una società come l'Inter ha potuto inserirsi cercando di tastare il terreno, di conseguenza questo è emerso a livello del giocatore e a livello del Napoli e probabilmente De Laurentiis si è convinto a fargli un'offerta migliore. Ma non vedo ricatti, non vedo tentativi scientifici di contrapporre le due squadre da parte del giocatore. Quindi adesso cosa succede? Secondo me succede che, se devo dire la mia, Mertens resta al Napoli e l'Inter dovrà cercare probabilmente un altro vice, un altro nuovo Sanchez. Un altro nuovo Sanchez. Mi sarebbe piaciuto come sponsalizio, vi ripeto, mi sarebbe piaciuto dal punto di vista tecnico e tattico anche perché ci poteva stare un Mertens a fine carriera, comunque nella fase secondaria, tra virgolette, della sua carriera all'Inter. ci poteva stare, era qualcosa che mi sarebbe piaciuto e ci poteva stare. Però è stata anche una cosa, come si può dire, anche piacevole, penso per un tifoso del Napoli, pensare che il giocatore possa restare, possa chiudere la carriera in un'epoca comunque in cui le bandiere, San Mertens si può definire tale, non esistono, non esistono più. L'Inter ne esce ridimensionata da sta cosa? No, non credo, non credo perché non l'ho vista come una trattativa condotta con cattiveria. Io non la interpreterei come una trattativa condotta da faccio di tutto per portare Mertens, mi concentro, vita, giorno, notte, morte, miracoli per portare Mertens all'Inter. Io penso che l'Inter abbia sondato il terreno, che sia stato un mero sondaggio, come se ne fanno tanti per tanti giocatori, abbia provato a vedere come buttava il vento, come tirava la questione, se c'era la possibilità di inserirsi, ma senza questioni di vita o di morte, per cui se Mertens non arriva, ci faccio una figuraccia o non ho alternative. Conoscendo Marotta, penso che ne abbia, non vedo sta figuraccia fatta dall'Inter. Io credo, anzi, che chi ha condotto questi sondaggi, sapesse dell'estrema difficoltà di arrivare a Mertens. È stato un tentativo, se c'è stato, non dico a babbo morto, ma comunque senza particolari pretese, e quindi ci può stare, quindi ci può stare. Non ci vedo un Inter che viene vilipesa da sta questione. La corsia preferenziale c'era per il Napoli, e questo penso lo sapessero e lo sappiano tutti all'Inter, che Mertens avrebbe dato priorità al Napoli. Credo che fosse una cosa risaputa. Poi ho sentito qualcuno che ha detto che ha preferito rimanere a Napoli perché all'Inter magari gli tremano le gambe, perché ha le responsabilità di andare in una squadra. Non è che Mertens giochi alla pergola e tese. In questi anni con il Napoli, come abbiamo detto prima, si è giocato dei posizionamenti posizionamenti in classifica veramente molto importanti, con una lotta scudetto condotta fino alla fine. È un giocatore che si sta giocando gli ottavi di Champions con anche un buon risultato all'andata. Chissà se riprenderà la Champions, ma insomma non è che il Napoli sia la pergola e tese. È una squadra comunque che ha una sua stabilità, che ha un suo pubblico, che ha un suo posizionamento nel campionato italiano e anche in Europa, voglio dire. Quindi non è che finisce la carriera in una squadraccia. È una situazione che ci può stare. Se devo farvi un riassunto, vi ripeto, penso semplicemente che l'Inter abbia cercato di inserirsi in una trattativa di rinnovo, ma più per tastare il terreno, per far sentire la presenza e per vedere se ci fosse la possibilità di portare il giocatore a Milano. Credo che tutte le parti sapessero che il binario preferenziale era quello di un Mertens che rimaneva a Napoli e rinnovava. Era la volontà del giocatore, la volontà del Napoli e l'Inter era a conoscenza di questo. È un affare, a mio avviso, che è stato un po' inflazionato come eco. Cioè, anche sui giornali, così se ne è parlato tanto, troppo, rispetto a quelle che erano, secondo me, le reali potenzialità di riuscita della trattativa. Ditemi cosa ne pensate voi, un caro saluto.